Finalmente stiamo ritornando a pieno regime, a quella che è l'attività purtroppo sospesa per quello che sappiamo, dobbiamo ringraziare l'AIA Equilibrium Cup che ci ha dato la possibilità di organizzare questa serie di eventi sull'intero territorio nazionale. Qui in Campania siamo alla terza edizione e ci seguirà per tutto l'arco di tutte le regioni fino a concludersi con quello che è il trofeo delle regioni che si svolgerà sul suo maggiore termo prossimo fine giugno con la chiusura del primo luglio. Una bella cornice di pubblico, ci ha supportato, una bella qualità anche espressa dagli oltre 100 ragazze che si sono confrontati nella giornata odierna, un bel comportamento anche da parte dei tecnici che hanno effettivamente dato valore a questa giornata di non solo tecnica ma anche di associazionismo che c'è stata nella giornata odierna. Odierna appunto, grande inclusione della manifestazione, la speranza che possiamo una volta per sempre ricominciare a viaggiare sui ritmi che avevamo un poco perso ultimamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.